Siamo al liceo De Nittis dove siamo stati invitati a incontrare i ragazzi al termine di un progetto dedicato alla giornata della memoria. I ragazzi hanno avuto modo di accedere a tutti i libri, i documenti, i film, insomma tutto il materiale disponibile all'interno della biblioteca scolastica e nella giornata di oggi hanno assistito alla proiezione del film The Reader. Una storia d'amore e di storia in cui si toccano i temi ovviamente dell'olocausto ma anche dell'importanza della cultura, dell'alfabetizzazione e di quanto la conoscenza e l'istruzione possano davvero cambiare le persone e quindi il mondo. Il problema di questi ragazzi è che spesso decontestualizzano quello che accade intorno a loro. Dovrebbero probabilmente un attimo collegare le dinamiche quotidiane di violenza, di emarginazione anche più banalmente quello che accade, ripeto, ad ognuno di loro con quello che è accaduto. È vero che sono su due piani completamente diversi ma potrebbero fare sintesi di quello che hanno visto e studiato con quello che accade loro ogni giorno per imparare a riflettere sulla quotidianità e sulla vita in generale. Non è la prima volta che la scuola attua questo tipo di prassi, la ripetiamo ormai da qualche anno. Negli ultimi anni cerchiamo di coinvolgere tutti gli studenti, biegno e triennio, in diverse attività che sono soprattutto ideate dalla biblioteca Pasolini, che è la biblioteca della nostra scuola che si avvale di supporti audiovisivi, quindi film, documentari, ma anche libri e laddove è possibile anche portando i ragazzi fuori dalla scuola per spettacoli teatrali o mostre per sensibilizzarli e per far capire loro che il male è intorno a noi sempre. Ecco, quello che veniva definita appunto la banalità del male e su cui tutti dovremmo riflettere. Purtroppo i testimoni diretti iniziano ad essere sempre meno, quindi è importante tramandare il racconto verso voi giovani affinché non si perda l'esperienza. Quanto è importante per voi appunto fare parte di tutto questo, cioè fare parte della sensibilizzazione, della conoscenza? Quanto è importante per voi documentarvi ed essere consapevoli, sapere che cosa è successo e quindi conservare e portare avanti la memoria dell'olocausto? È molto importante ripetere quanto è importante sia la memoria perché molte persone non se ne rendono veramente conto. In poche parole ci serve per capire cosa è giusto, cosa è sbagliato e non ripetere gli errori che abbiamo fatto in passato? Avete avuto la possibilità di accedere quindi a tutto ciò che c'è di disponibile nella biblioteca scolastica e anche di assistere a proiezioni e spettacoli teatrali che avessero appunto come tematica centrale l'olocausto. Qual è stato il film, lo spettacolo, il libro, la testimonianza che vi ha colpito di più e perché? Qualche giorno fa siamo andati a vedere uno spettacolo al teatro dove appunto la tematica molto importante era sempre riguardo alla Shoah ed è stato molto bello poiché comunque lo spettacolo era la creazione proprio dello stesso spettacolo in uno spettacolo e quindi è stato molto divertente perché comunque essendo una tematica molto delicata anche gli attori sono riusciti a 360 gradi a spiegarci il tema appunto che comunque ai giorni d'oggi è buono ricordare. Secondo voi quanto conta anche in relazione al film che abbiamo appena visto studiare, sapere, essere alfabetizzati ma anche essere presenti nel mondo? Quanto è importante la cultura e la conoscenza per far sì che queste cose non si ripetano più? Allora per me è molto importante l'istruzione o la cultura in generale proprio perché possiamo sensibilizzare la persona che magari guarda il male che l'uomo in passato ha fatto, semplicemente questo. Allora innanzitutto nel film raccontava l'amore, il vero e l'importanza dell'amore e possiamo vedere anche l'importanza della donna che aveva paura di ammettere che è un'analfabeta, ciò ci fa capire che in quei tempi ma anche oggi essere analfabeti è veramente brutto e il film ci ha fatto capire che non ci dobbiamo vergognare. Il professor Solofrizzo giustamente pone l'attenzione su quanto fondamentalmente la matrice del male sia sempre la stessa e che quindi oltre a insegnare ai ragazzi la storia, la letteratura, la geografia è importante come questo progetto si propone di fare anche insegnare, educare, guidare i ragazzi e tutte le nuove generazioni alla elaborazione di un pensiero critico perché conoscere e riconoscere ciò che avviene intorno a noi è il primo passo fondamentale per far sì che gli errori non si ripetano.